Ciao, oggi ti faccio vedere il barbecue della Jamestown. Questo è il libretto di istruzioni e procediamo al montaggio man mano che va avanti. Il peso totale si aggira neanche sui 7 kg, l'altizia è di 91 cm, la larghezza è di 52 cm e la profondità è di 38 cm. Questa manopola che sto girando ti permette di regolare il flusso d'aria per le carbonelle. Ha un cassetto per le cinere estraibile, una volta montato, è a forma di imbuto con paravento. La griglia è in acciaio ed è regolabile in tre altezze. Adesso andiamo a vedere il funzionamento. Qui metto le carbonelle. Qua mettiamo la griglia e aggiungiamo la carne. E questo è il risultato. Questo prodotto, a livello amatoriale, è davvero ottimo per un barbecue senza pretese. Iscriviti al canale. Ciao e alla prossima.